Con il dottor Vincenzo Cagliozzi parliamo di finanza. Dottor Cagliozzi, come è andato da un punto di vista finanziario l'anno che abbiamo appena lasciato dietro, il 2017? È andato molto bene, è un anno che è stato positivo per i risparmiatori, ci sono stati sicuramente dei buoni rendimenti, c'è stata una ripresa generale dei mercati finanziari, in particolare azionari, e l'anno nuovo è partita con un ottimo slancio. Quindi sicuramente è uno di quei periodi dove il gioco vale la candela, possiamo ancora cogliere delle ottime opportunità. Quindi per questo 2018 possiamo ben sperare in una scia ancora positiva? Sicuramente, sicuramente ci saranno ancora dei nuovi record, magari in America, in Europa, sul mercato azionario, vedremo ancora le materie prime crescere, che ho la ripresa che ormai diventa sempre più diffusa e più consistente, si iniziano anche ad accendere questi mercati. Vediamo il petrolio, insomma, un po' tutte le materie prime sono anche loro in ripresa e c'è qualcuno che coglie anche queste opportunità. Per quanto riguarda le cose di casa nostra, quanto le elezioni del 4 marzo influiscono sulla tenuta del mercato e sugli osservatori, anche esteri, per quanto riguarda il mercato italiano? Ma su questo io vorrei ricordare un po' tutti gli esperti che dal 2017 è stato l'anno della mancanza di volatilità sui mercati, nel senso che è stato un mercato poco volatile e questo sicuramente è positivo perché i mercati sembrano ormai riuscire ad assorbire un po' tutto, eppure ci sono stati eventi, notizie eclatanti, ma il mercato fortunatamente oggi segue la sua strada. Diciamo che le elezioni italiane sicuramente sono oggetto di attenzione, non solo nostre ma anche di tutto il mondo, e sicuramente è un'economia sempre attenzionale, che sia un paese con debito pubblico elevato, però sono convinto che i mercati, questo lo dico solo da un punto di vista dei mercati finanziari, si aspettano un governo che sia in grado di creare una maggioranza. Quello sarà l'aspetto positivo. Poi su chi possa vincere, eccetera, l'unica cosa che può preoccupare i mercati è eventuali idee antieuropeiste. Sì, magari alle riforme, a una revisione di trattati, ma parlare eventualmente di un ritorno al passato, di un allontanamento dall'Europa dell'Italia sarebbe pericoloso, per l'Italia in generale per i mercati, e sarebbe in questo caso negativo. Ma non mi aspetto eccessivi movimenti, sicuramente più prudenza sotto le elezioni, poi vedremo come andrà. Ma il 2018 lo vediamo come un anno positivo.